secondo me non ce la posso adesso parte e si bagna riusciranno le nostre rile, ma cos'è? però quello che mi fa strano è che c'è una vada, c'è un lupo quasi no, no, non c'è la prossima parte intanto la mondo ce l'hai con me? ma no no, che peccato, non ho peccato è il momento è partito no, non c'è una vada ma non è funzionato prima io l'ho fatto per gioco nel senso che, porca droga non c'è una vada 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 beh, però il ghiaccio è proprio da professionista il ghiaccio è veramente proprio professionista non c'è una vada non c'è una vada non c'è una vada qui c'è una vada mi avevo pensato una cosa c'è tipo il pesce di metterlo dentro le barchezze perché così non mescolano ma che ordonabile cosa è questo no, è vero che vanno? sì wow poi abbiamo anche l'uomo nudo che ci fa da mangiare però non avremmo mai però uomo nudo ti potresti mettere questo per il giuomo no, no, no non hai capito com'è per il giuomo però solo quello davanti, davanti no 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 no